Mi sono reso conto che questo mezzo permetteva di affrontare dei sentieri, dei percorsi, dei terreni che normalmente non avrei potuto affrontare con la bicicletta tradizionale. Poter affrontare nuovi percorsi, terreni estremi e gradinate in salita mi dà un piacere enorme e nuove sensazioni. Sono Stefano Migliorini, ex campione di BMX e Mountain Bike. Grazie a tutti.